Il punto chiave che noi abbiamo di fronte a noi è che gli insegnanti sono poco pagati. Terzo punto della buona scuola, più soldi agli insegnanti. È un dato di fatto oggettivo. Io credo che si debba essere sinceri fino in fondo. Oggi gli insegnanti hanno perso una parte dell'autorevolezza sociale che avevano negli altri anni. La mia maestra, Eda, nel mio piccolo paese nel quale sono cresciuto, entrava nel bar, entrava al circolo ed era rispettata da tutti, come il farmacista, come il maresciallo, come il parroco. Perché? Perché quella figura era una figura che aveva un prestigio sociale. Oggi il prestigio sociale è venuto meno. In parte è colpa di noi, nuovi genitori, perché quando mio padre era chiamato da un professore per dire che mi ero comportato male, dava la colpa a me. Invece la mia generazione di genitori spesso dà la colpa all'insegnante. Quindi la prima responsabilità ce l'abbiamo noi, genitori della nuova generazione. Però parliamoci chiaro, c'è anche una parte di responsabilità che deriva dal fatto oggettivo che quando si chiedono ai ragazzi di boicottare le prove in balzi o si minaccia il blocco degli scrutini, non si sta facendo un servizio alla scuola e non si sta facendo un servizio a quei ragazzi. Ecco che è importante riuscire a intervenire dando più soldi agli insegnanti, non perché da questo discenda l'autorevolezza sociale, ma perché è un fatto di giustizia. Per questo i 500 euro per ciascun insegnante, per la formazione, per comprarsi un libro, per un concerto, per investire in cultura, per andare a teatro, sono 500 euro annuali che arrivano a tutti gli insegnanti della scuola pubblica italiana con questa riforma, perché mettiamo più soldi per la scuola, non meno soldi nonostante le proteste, e dall'altro 200 milioni, che sono 200 milioni che valgono per gli insegnanti sulla valutazione. Questo è un argomento che ha fatto arrabbiare in tanti, però non è che può valere il principio del nessuno mi può giudicare. Parliamoci chiari. Se tu chiedi ai ragazzi di dare il meglio che questi possono dare, potrai anche accettare un criterio per il quale tu stesso devi essere valutato. Perché il merito nella scuola non è una parolaccia, perché ci sono tantissimi professori che fanno bene il loro lavoro e che sono arrabbiati con i loro colleghi che talvolta non fanno altrettanto bene il loro lavoro. Poi naturalmente, intendiamoci, si può discutere di come si utilizzano questi 200 milioni, perché questo è un punto molto delicato. Io lo capisco che ci siano opinioni variegate. Qualcuno vorrebbe che fosse il preside, qualcuno dice che diamo troppi poteri al preside a valutare gli insegnanti su questi 200 milioni. Che cosa possiamo fare? Nel testo di oggi c'è un nucleo di valutazione che deciderà, ma il principio di fondo è dare più soldi a chi li merita.